Ma perché si ha la paura di abbandonare i narcisisti? Andiamo a vedere questa cosa. Ma perché non vogliamo molare queste persone? Vogliamo ancora rimanere lì? Stiamo a sperare non si sa cosa, con l'aspettativa di non si sa cosa. Ecco un primo motivo per il quale si fa molta fatica ad abbandonare un narcisista o una narcisista. Si ha la speranza che un giorno succederà qualcosa, che un giorno succederà una sorta di miracolo, che lo farà cambiare e capire finalmente il peso e l'importanza dell'amore che abbiamo messo in questa relazione. Un giorno magari capirà e avrà una sorta di rivelazione a livello emotivo che farà partire quell'empatia che gli manca così tanto, che ha avuto fra le mani per così tanti anni l'unica persona che faceva per lui o per lei e che non era in grado di vedere. E quindi quel giorno quando arriverà, tutte queste realizzazioni finalmente si innescheranno nella testa del narcisista o della narcisista. Queste sono le cose che ci raccontiamo, queste sono le storie che ci raccontiamo, che fanno sì che rimaniamo nella relazione perché c'è questa speranza, c'è questo fortissimo desiderio che queste cose accadono un giorno. Purtroppo abbiamo a che fare con persone che soffrono di una patologia, quindi per questo che questa speranza è riposta nelle mani sbagliate. E questo quindi è uno dei motivi per il quale non vogliamo molare la nostra relazione con il narcisista o la narcisista, perché abbiamo questa fortissima credenza che per certi versi è un riflesso del rapporto conflittuale che abbiamo avuto nella nostra famiglia di origine. Perché stiamo cercando in un certo senso di sistemare i rapporti di infanzia con il narcisista. Per questo che molte volte, inconsapevolmente, stiamo lì ad aspettare, stiamo lì a sperare, ad aspettare con ansia questo momento, che arrivi finalmente a questo momento. Purtroppo, ancora una volta, è tempo perso. È tempo perso perché abbiamo di fronte a noi una persona che soffre di una patologia. Ed è una patologia che ha messo le sue radici da tantissimo tempo, da molto molto tempo. È una cosa che si è proprio impregnata nel sistema della persona con la quale stiamo interagendo. Per questo è che bisogna venire a termine con questa speranza e accettare la realtà per quella che è. E soprattutto che i nostri problemi non verranno risolti tramite la nostra relazione con il narcisista o la narcisista. È una cosa che bisogna lavorare prima in noi stessi. Una cosa che dobbiamo prima accettare, razionalizzare. Da lì in poi ci si rende conto che non è tramite il narcisista o la narcisista che risolveremo i nostri problemi. E che molto probabilmente questa non è la relazione giusta che fa per noi. E quindi quando si ha questo tipo di realizzazione, è molto più facile lasciare andare e passare a qualcos'altro. Il secondo motivo per il quale si fa molta fatica ad abbandonare un narcisista o una narcisista è perché pensiamo che la relazione non funziona per colpa nostra. Non ci stiamo mettendo abbastanza impegno. Non siamo all'altezza dei suoi standard. Non riusciamo a capirlo o a capirla come si deve. Lui o lei ci fanno sempre capire molto bene le loro ragioni. Siamo noi. Come dice lui o come dice lei. Siamo noi che siamo il problema. Siamo noi che dobbiamo sistemarci. Non vedete? Ce lo ripete sempre. Non capisci nulla. Non vedi quello che sto facendo per te. Non ti rendi conto dei sacrifici che ho fatto, che sto facendo. E quindi quando sentiamo queste parole, dette con questa grandissima sincerità. Anzi, sincerità. Ci stiamo convincendo sempre di più che tutta la colpa è nostra. Poi, se a questo aggiungiamo la schiera di scimmie volanti che si aggregano a destra e manca. Che ci dicono che non riusciamo a capirlo, non riusciamo a capirla. Dobbiamo dare un'altra scienza a questa relazione, no? Abbiamo il cuore troppo rigido. Non ci rendiamo conto della fortuna che abbiamo sotto mano. Bisogna sforzarsi di più. Ogni relazione è difficile. È normale che siano queste difficoltà. Queste sono le vocine delle persone che, secondo me, dovrebbero stare zitte. Uno, perché non hanno la più palida idea di quello che state vivendo. Due, perché invece di ascoltarvi quando vi lamentate dei problemi che state subendo per via dei narcisisti, andando magari ad informarsi sulla personalità patologica narcisistica, no. Cosa fanno? Arrivano e vi danno dei consigli così sparati in aria, dandovi la colpa direttamente o indirettamente dei problemi che state vivendo all'interno della vostra relazione. Cioè, capite? Per quello che dico, queste persone, per quanto mi riguarda, devono stare zitte. Possono iniziare a parlare soltanto se hanno già vissuto questo tipo di relazione. E due, se si sono almeno informati per capire di che cosa si tratta. Perché dico questo? Non è che lo dico per cattiveria, per voglia di disminuire a mia volta queste persone, no. Lo dico perché molto spesso, senza saperlo, stanno peggiorando il vostro stato mentale. Stanno peggiorando la vostra situazione. Per questo è che dico che, se non sapete cosa state facendo mentre state dicendo queste cose, alla persona che vi sta parlando del tipo di relazione che sta vivendo, non dite nulla, anzi, informatevi, informatevi su questo tipo di relazione, perché così almeno, magari, riuscirete a dare una mano vera e sincera alla persona che vi sta esponendo la sua situazione. Quindi sì, non state a pensare che non siete abbastanza coinvolti nella relazione, che non avete dato abbastanza, non siete la radice del loro problema. Perché sono dei meccanismi che sono troppo radicati, che sono troppo impregnati nel sistema. Il terzo motivo è che si cerca, con tantissimi sforzi, di cercare a soddisfare i suoi standard. Di cercare, a volte, di imitarlo o di imitarla. In modo da mostrargli che li vogliamo così tanto bene, che siamo disposti anche a rinunciare ai nostri valori. A rinunciare alla nostra personalità, per diventare quello che vogliono loro. E ancora una volta, questo non porterà a nulla di buono. Perché i loro standard cambiano in continuazione. Non c'è uno standard fisso. Mettiamo caso che riuscite a raggiungere uno standard. Che potrebbe essere, che ne so, di guadagnare di più al lavoro. Il narcisista o la narcisista si lamentano con voi perché dicono che non vi lamentate abbastanza al lavoro per ottenere un aumento. Bene. Immaginiamo che riuscite ad ottenere un aumento di 3.000 euro. Sarete contenti, direte Oh, finalmente, sono riuscito, sono riuscita ad ottenere questo traguardo. Adesso sarà contento, adesso sarà contenta. E invece, risultato, si lamenteranno anche di quello, vi diranno Ma perché solo 3.000? Perché non hai chiesto 5.000? Guarda quello lì. Guarda quella lì. Che lavora in quell'azienda lì. Non vedi che guadagna 10.000? E fa un lavoro simile al tuo. Cioè, vedete? Cosa è così. Qua sto esagerando, ma è per farvi capire che anche se riuscite a soddisfare le esigenze dei narcisisti, ne aggiungeranno altre. Perché per loro è come un gioco. È un gioco in cui vi danno ordini. E ogni volta che seguite e vi date da fare per eseguire questi ordini, questo li dà voglia di aumentare la dose. Perché aumenta il loro senso di potere. Cercheranno di spingere il limite ancora oltre. È un'insoddisfazione che non nasce da voi. Voglio mettere molto l'accento su questo. È un'insoddisfazione interna che stanno proiettando in continuazione sulle persone. Per questo è che se vi aspettate che un giorno avrete il riconoscimento dovuto, perché avrete raggiunto un paio dei standard che vi avranno imposti, non cambierà assolutamente nulla. Il quarto motivo è perché abbiamo paura di rimanere da soli. Proprio detto papale papale, in molti casi si ha la paura di rimanere da soli. Non riusciamo a concepire la vita senza qualcuno a fianco. Anche se qualcuno che ci tratta male, che ci tratta con sufficienza, non importa. Perché la paura fondamentale è quella di non rimanere da soli. È la paura dell'abbandono, ma non soltanto. In certi casi la paura di come veremo visti socialmente parlando. Quindi magari, non lo so, a 30 anni siamo un uomo o una donna da soli. Quando magari vediamo i nostri amici che si sono già sposati, o che stanno convivendo, o che hanno dei figli. E quindi c'è questa paura sociale di essere visti come persone non desiderabili. Non è per tutti questo, però in molti casi c'è anche questa paura. La paura dello sguardo sociale. Un altro motivo è che pensiamo di non essere abbastanza attraenti. Pensiamo che non troveremo mai qualcun altro che ci amerà così. Amerà così. Specifichiamo sempre. Perché qua non si tratta di amore, si tratta di sfruttamento della vostra persona. A volte ci sono le situazioni in cui sentiamo davvero che questa è l'unica relazione sana che ci è capitata. Perché pensiamo che questa relazione sia così speciale, sia così formidabile, sia così un dono dal cielo. Ci mettiamo anche ad accettare situazioni che sono orribili, come il narcisista o la narcisista, che ci tradiscono spudoratamente, e vi dico queste sono cose che ho viste, persone che vedono e accettano. A volte il narcisista è lì, il telefono squilla, ed è palesemente l'amante con la quale lui tradisce la sua compagna, e lei è lì, facendo finta di nulla. Cioè capite il problema? Una persona che vi ama non vi farebbe mai una cosa del genere. Purtroppo queste cose sono dovute al fatto che si ha la paura di non poter ritrovare mai un'altra relazione di questo tipo. Perché siamo lì incastrati nel love bombing, no? E anche nel rinforzo intermittente. Ossia l'alternanza di trattamenti abusivi con trattamenti che ricordano il love bombing. Quindi vi trattano male oggi e domani vi fanno il love bombing. Vi trattano male oggi e domani vi fanno il love bombing. E così via dicendo. Questo si chiama rinforzo intermittente. E quindi quando loro fanno questo, si ha l'impressione che sì dai, quando perde il controllo è soltanto un momento così, è qualcosa che gli passerà. Mi sta tradendo, ma sì dai, lo farà soltanto adesso, probabilmente è colpa mia. Anzi, sicuramente è colpa mia. Se mi impegno ad essere più bravo o più brava in questa relazione, allora non mi tradirà più. Non avrà più la necessità di farlo. Tanto è che a volte, quando vi mettete a litigare, queste persone che cos'è che vi dicono? Ti ho tradito per colpa tua. Ti ho tradita perché ti sei comportata così. Ti ho tradito perché hai fatto questo o quell'altro. Cioè capite? Allora vi dico una cosa. Quando una persona tradisce, è colpa sua. Perché l'intenzione e l'atto del compie del tradimento è colpa loro e basta. Quando vi dicono queste cose, non ascoltate perché sono cose che non stanno né in cero né in terra. Anzi, come dico spesso, questi sono dei segnali. Cioè voglio dire, se la persona vi dice anche chiaramente che vi ha tradito e che è colpa vostra, come vi dico sempre su questo canale, prendete, chiudete il libro, buttatelo nel cestino e cercatene un altro. Perché vi dico chiaramente, io non vi dirò mai come cercare di stare in questo tipo di relazione. Perché non è il mio approccio. Il mio approccio è come allontanarsi da queste persone. Come tenerle fuori dalla propria vita, in modo da potersi ricostruire focalizzandosi sulle cose che contano veramente per la propria vita. Questo è il mio approccio. Per quello che spesso dico, quando finite qua, se volete maggiore informazioni, perché qua magari avete qualche idea in più di come possono comportarsi i narcisisti e perché lo fanno, ma se volete sapere come continuare a stare con loro, non è il canale giusto. Voglio essere onesto con voi. Non è il canale giusto, da questo punto di vista. L'altro motivo per il quale si rimane col narcisista o la narcisista è perché si credono in queste idee prefatte, no? Chi ama bene, castiga bene. Ma daaa. Ma veramente. Cioè capite? Queste sono le frasi fatte che a volte ci si ripete per poter giustificare la situazione che stiamo vivendo. O un'altra cosa che vi viene detta spesso, i rapporti di coppia sono sempre difficili. Se non ci sono difficoltà in una coppia, non è una vera coppia. Allora, premetto che è vero che in una relazione ci sono difficoltà, ma non devono essere difficoltà quotidiane. Non devono essere difficoltà che vi stanno distruggendo psicologicamente, al punto di non sapere neanche più chi siete. Non sapere più dove state andando con la vostra vita. I litigi in una coppia sana servono per poter capire fin dove può andare l'altro. Serve per capire che cos'è che non si può fare in modo da portare la relazione avanti, facendola migliorare. Quindi c'è un miglioramento graduale. Si vede che certe cose sono state lasciate indietro, però questo è servito a portarvi in un certo punto, a portarvi in una certa situazione dove vedete che le cose sono cambiate. Sono cambiate in meglio. Ma se vedete che ogni volta che fate i sacrifici, che ogni volta che lasciate qualcosa per strada, nella fantomatica costruzione di questo rapporto, state soltanto peggiorando. Si ha l'impressione di essere rinchiusi sempre di più lentamente, ma sicuramente in una gabbia. Questi sono quindi alcuni dei motivi per i quali vogliamo persistere in una relazione con il narcisista o la narcisista. Bene, questo è tutto. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Fatemi sapere come vi è sembrata questa puntata nei commenti. E non mi rimane altro da dirvi che ci vediamo. Alla prossima!